Musica Mercoledì 23 marzo, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV Questa è la rassegna stampa occhio ai giornali delle 7.30 del mattino Cominciamo subito dal santo del giorno, vediamolo oggi è Santuribio Alfonso de Mogroveio Il sole sorto alle 6.04 e tramonterà alle 18.25 Il tempo per oggi, vedete c'è il bollettino della protezione civile delle Marche Che annuncia per oggi un'allerta meteo Si segnalano infatti rovesce temporali diffusi anche di forte intensità In particolare nel settore centro-meridionale della regione Marche Eventi saranno forti, nord-orientali e possibilità di mareggiate Per quanto riguarda nello specifico la giornata di oggi Abbiamo già detto ci saranno precipitazioni diffuse Anche rovescio temporali di forte intensità Il limite delle nevicate sarà attorno ai mille metri I fenomeni saranno in attenuazione dal pomeriggio A partire dal settentrione Eventi nord-orientali Le temperature sono in diminuzione Domani giovedì avremo ancora cielo nuvoloso Con addensamenti più consistenti al sud Dove continuerà a piovere e anche a nevicare sui sibillini Le precipitazioni durante la notte e al primo mattino di domani Saranno deboli con locali rovesci sul settore meridionale Però andranno ad esaurirsi nel corso della mattinata Le temperature sono stazionarie Quelle minime e le massime in lieve aumento Poi migliora per la giornata di venerdì Venerdì è venerdì santo Temperature minime in lieve diminuzione Il cielo sarà sereno I venti saranno moderati Per la Pasqua avremo Il fine settimana sereno e poco nuvoloso Sabato è nella prima parte di domenica Poi tra il pomeriggio e di domenica La prima parte di lunedì è atteso Il transito di una struttura nuvolosa Con deboli piogge associate Ma staremo a vedere un po' quello che succede Allora al netto di quelle che sono le notizie Chiaramente che arrivano da Bruxelles Dove i giornali locali Hanno dedicato comunque dello spazio Perché come abbiamo già detto anche ieri Nel corso del telegiornale Tante sono le persone, gli italiani, i marchigiani Che sono tuttora là in Belgio E che quindi hanno raccontato Per fortuna Raccontato Un lieto fine Con chi ha scampato per qualche minuto Chi per mezz'ora Chi si trovava lì vicino Insomma tutti i racconti Che i quotidiani colleghi della carta stampata Hanno raccolto Hanno raccolto nella giornata di ieri Quindi le troverete un po' Nei quotidiani Che solitamente appunto leggiamo al mattino Il Corriere, il Carlino e il Messaggero Noi invece ci concentriamo sulle altre notizie Per esempio questa Si chiama Operazione Damasco I crabinieri di Ancone e di Fano Hanno struncato uno spaccio di cocaina Ma anche rapine, estorsioni Insomma il titolo non è molto rassicurante Questa mattina dico la verità La mafia che ha invaso Fano 13 gli arrestati 45 le persone indagate Sono due pagine Sono due pagine Noi ne leggiamo e ne prendiamo in esame soltanto una Lo spunto investigativo È partito da un ladro seriale Sono state le gesta di un malvivente Che rubava e acquistava della droga La droga proveniva dall'Olanda Dalla Germania E trattavano sempre ingenti quantitativi di cocaina Per rifornire in particolare Fano, Pesero E la provincia anconetana L'organizzazione disponeva anche di armi Da usare per la difesa sia degli associati Sia come potenzialità di fuoco Dell'intero gruppo Armi ancora che non sono state rinvenute Un collaboratore di giustizia Legato alla mafia catanese Un 31enne residente a Fano Questo è il ruolo di un collaboratore Anche dalla sua sorveglianza Cioè tenendo sott'occhio questo 31enne È iniziata l'inchiesta Di questo se ne parla chiaramente tutti e tre i quotidiani Andiamo a vedere le altre pagine del resto del Carlino La città che cade La città di Pesero Brutto risveglio per i residenti della Celletta Perché? Perché c'è stato un ride Sono stati spaccati vetri alle automobili parcheggiate Una decina di vetture danneggiate nella notte Sono stati rubati i navigatori e altri oggetti Mentre sotto vedete la spazzatrice Quella che pulisce la strada perde l'olio E il centro storico diventa un rodeo Perché chiaramente con l'olio sulla strada Si scivola e guardate gli effetti Per esempio questo automobilista Scusate la ruttura di un tubo idraulico Ieri mattina ha provocato disagi e cadute Di una decina di ciclisti Poi subito Marche Multiservizio È intervenuta con la segatura Per rimettere le cose a posto Mentre un automobilista Eccola qua la foto curiosa Distratto Non si è accorto della presenza di una serie di scooter Parcheggiate all'atto di via 11 febbraio E gli ha travolte praticamente tutte Insomma ha fatto un filotto Di moto parcheggiate Andiamo sulla pagina di Fano invece adesso Del resto del Carlino Perché il giornale bolognese Racconta di un'azienda importante Del nostro territorio La Pedini Cucine Che arreda sette grattacieli in Oregon Un taicon americano Che è qui nella fotografia È un imprenditore Anderson Si chiama Che qui vedete con i suoi collaboratori E anche con i familiari In una gita recente a Urbino Questo taicon americano Dicevo Fa shopping di cucine E si innamora della città E dice Ha preso casa praticamente qui E sotto invece vedete L'azienda Della Pedini Cucine Appunto Che ha allestito Uno showroom A Seattle Proprio grazie all'export Il fatturato dell'azienda È cresciuto del 40% Nel 2015 L'altra pagina invece Rimaniamo sempre in tema Di commercio Perché? Perché c'è un'iniziativa Che giustamente Il Carlino sponsorizza Anche come proprio Lo faremo anche noi E quindi cambieremo Il titolo diremo Fano TV Mette il commercio in vetrina Il Carlino Mette il commercio in vetrina Di che cosa si tratta? È un concorso Che ha organizzato Comunica SRL di Fano In collaborazione con Appunto il resto del Carlino Fano TV E Fano Informa C'è il patrocino Del comune di Fano Della fondazione Teatro della Fortuna Il sostegno di Commercio Pesero Pesero Urbino Banca Marche E McDonald's Di Fano È un concorso Dicevo Un concorso Che servirà Raccogliendo I coupon Per decretare La migliore attività Della città di Fano Poi ci sarà Un Chiaramente Un Galà Una serata Al teatro Della fortuna Dove verranno Consegnati Questi premi In base A quelle che sono Le preferenze Che arriveranno In questi due mesi Perché ci sono Due mesi di tempo Per raccogliere Questi coupon E segnalare La vostra attività Ecco questo Tanto per Allora Andiamo invece adesso Nella pagina di Fano I Valle del Cesaro Del resto del Carlino Perché qui C'è la notizia E qui anche la fotografia Di Alessa Minenza Una trentenne Che Si mette in posa Con la denuncia Presentata I Carabinieri Va a ballare Al Tris Nota discoteca Di Schieppe E ci rimette 4.000 euro Infatti I ladri Sono entrati Hanno Scassinato l'auto Senza Lasciare tracce E sono state rubate Le carte Carta di credito Carta bancomat Eccetera E lei dice Io mi sono accorta Del furto Quando praticamente Mi hanno chiamato Dalla Dalla banca Le altre Pagine Adesso Andiamo sul Resto Rimaniamo un attimo C'è l'ultima pagina Scusate Del resto del Carlino Sulla Tragica morte Di Filippo Palazzi L'ombra Dei soccorsi Tardivi Oggi pomeriggio Ci sarà l'autopsia Sul corpo Del ciclista 44enne Giovedì Invece L'addio Giovedì Ci sono I funerali Alle 15 Nella chiesa Di Santa Maria Goretti Nel quartiere Di Sant'Orso I funerali Del giovane papà Di 44 anni Stroncato Da un malore Mentre correva Il primo Memorial Pepoli Il quinto Gran premio Del Globauto A Savignano Sul Rubicone Un incidente Un nuovo incidente Un dramma Un infarto Che lo ha stroncato Domenica mattina Apriamo adesso invece Il Corriere Adriatico Allora La pagina di Pesero Contratto di fiume Foce costa Per il Foglia Con i fondi europei La stipula È più vicina Delle Noci Dice vogliamo mettere In sicurezza L'intero bacino Questa è la pagina Di Pesero Quello di Urbino Invece Centro storico Urbino Si fa bella Avviato il restyling Della pavimentazione Ecco il cronoprogramma Dei lavori La pagina di Fano Invece Referendum Contro l'ospedale unico Iniziativa popolare Promossa da Possibile Bene Comune Movimento 5 Stelle E la tua Fano Costantini spiega L'impegno Per il Santa Croce Benini Contesta Il sito Contesta il sito Ruggeri Critica Minardi E Guzzi Cambia idea Spunta Carnaroli Invece In una riunione Che c'è stata L'altra sera Una riunione Della maggioranza consigliare Lunedì sera Per discutere Della questione spinosa Della sanità Dopo l'iniziativa Del sindaco Massimo Seri Alla riunione Ha preso parte Anche la vecchia guardia Del partito democratico Fanese C'erano Angelo Renzoni Uomo di fiducia Di Renato Minardi Che era assente C'era anche Cesare Carnaroli Ex sindaco di Fano Che ha governato Questa città Per dieci anni E Ci sono state Delle frizioni Racconta Il Corriere Questa mattina Toni Accesi Criticato Savelli Per la nota Contro Ceriscioli Linea avversa Alla mozione Dei Cinque Stelle L'altra pagina Di Fano Il Corriere Invece È sulle scritte Scritte che sono Apparse Sulle mura romane Adesso Chiedono A gran voce Le telecamere Carboni Di noi giovani Sollecita Controlli E sanzioni Più pesanti Contro Quanti danneggiano Il patrimonio Monumentale Mentre c'è Un'iniziativa Del paese Dei Balocchi E della diocese Di Fano Sulla giornata Che riguarda La giornata Nazionale La giornata Nazionale Dello slot Mob Che si terrà Il prossimo 7 maggio Libertà dal gioco D'azzardo E Fano Aderisce A questa Iniziativa Questa giornata Nazionale Dello slot Mob Del 7 maggio Prossimo In cui verranno Privilegiati I bar E gli esercizi Commerciali Che hanno deciso Di togliere Le slot Machine Dai loro Locali O che si impegnano A non metterle Mentre Vi segnalo Questo Articolo Che riguarda Un crocifisso Che è stato Donato Alla parrocchia Della gran Madre di dio Un'opera Della scultrice Marisa Lambertini La pagina invece Di Fano E Vale del Cesano La pergola Fabriano La vecchia Pergola Fabriano La ferrovia La tratta Ferroviaria Va riattivata C'è stato Il sopraluogo Del sindaco Francesco Baldelli Sindaco di Pergola Sui vecchi Binari C'è già L'accordo Con Sassoferrato La regione Ha segnalato La presenza Di una frana Per spiegare La chiusura Ma è solo Un piccolo Di vallamento Quindi insomma Si tratta Di poca cosa Secondo Quello che c'è scritto qua Traffico di droga Invece Siamo sulla pagina Delle Marche Traffico di droga Con l'ombra Della mafia Stroncata Stroncata Un'associazione Radicata Trancone Pesaro Mentre Il capo Di cupra A cupra Montana Il capo Della banda Preso O meglio Il capo E a cupra Montana Poi è stato Preso anche Un militare Della Capitaneria Furti E truffe Escalation Senza fine Senigallia Quattro romeno Bloccati Su una berlina Con targa tedesca Al parco della pace Ancora falsi tecnici Attenzione Questa Questa è importante Addirittura Segnalavano Delle bollette Finte bollette Se vi arriva Adesso è difficile Spiegarlo Senza Si crea Si rischia Di non far pagare Le bollette vere Rispetto a quelle Che invece sono fatte Comunque Cercheremo di farvi vedere Magari anche Nel telegiornale Stasera Di queste bollette Che arrivano C'è la Conf Un'associazione di categoria Che ha messo In guardia Ha messo in guardia Le persone Con tanto Di finta bolletta Allegata Quindi vi faremo vedere Quella bolletta Ecco Bisogna stare attenti Perché quella Non è quella vera Però ecco Se state un pochettino attenti Si riconosce subito Che c'è qualcosa Che non va C'è scritto Enel Però è una bolletta Che già Di primo acchito Insomma Non Fa storcere il naso Però chiaramente Non tutti Hanno La Prontezza Quindi Non tutti sanno O se potrebbero Accorgere di questa cosa Però fate attenzione Andiamo sull'ultima pagina Di Fano Invece Questa è quella Del messaggero Lanciato un referendum Per salvare Santa Croce Alleanza a trasversare Tra La lista Possibile La tua Fano 5 stelle E bene comune La scelta del nuovo ospedale A Fosso Signore Continua ad infiammare La politica fanese Il centro-sinistra Sempre più In difficoltà L'obiettivo del comitato Di cui fa parte Aguzzi Raccogliere 2.600 firme Entro il 30 di aprile Poi Si parla Della Protesta Dello sciopero Alla Saipem Di Bellocchi A Fano Mensa vuota Per protesta Gli operai Sono solidali Con gli addetti Alla ristorazione Presidio davanti Ai cancelli Dell'azienda I sindacati Minacciano Anche Azioni legali Poi Una 25enne Di Serrungarina Ha patteggiato Usava il treno Per vendere droga A domicilio Ha patteggiato Un anno e due Mese Tutto Siamo naturalmente Andiamo sulla pagina Scusate No sulla pagina Sulla telecamera esterna Del Pincio Perché Chiaramente Stiamo seguendo L'evolversi Di questa fase Del maltempo Acuta fase di maltempo Che durerà Ancora diverse ore Soprattutto la mattinata Sono attesi anche Eventi forti Questa è la situazione In questo momento In diretta Su Fano Sono le 7.46 Per chi ci segue In diretta Dicevo Stiamo seguendo Un po' la fase Di questo maltempo Maltempo che colpirà In particolare Il centro sud Della regione Noi ci occuperemo Invece Della parte Centro settentrionale Per le vostre Segnalazioni Come sempre Vi ricordo Il nostro numero 338 4968250 Oppure la nostra Applicazione Disponibile Su Apple Store Oppure su Google Play Noi per il momento Ci fermiamo qui Se c'è bisogno Come sempre Di intervenire Di entrare Nella notizia Come sempre Apriremo Una finestra informativa Con le edizioni straordinarie Noi però Per il momento Ci fermiamo qui Andiamo avanti Con il nostro lavoro Vi auguriamo Una buona giornata E ci vediamo stasera Alle 20.30 Con il telegiornale Occhio alla notizia Arrivederci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada